Salve a tutti, io sono Giuseppe Senagoglia e sono uno dei più ambasciatori della Farno tutta la parte. Giuseppe Guarnera è il mio compagno di avventura, lo rincontrerete dopo alla Farno. In quanto ambasciatori andiamo in giro per il mondo con la bandiera della Farno che è l'Ethnes Flag che significa bandiera della felicità ed è il simbolo di chi ha ancora voglia di sognare e crede nei sogni anche in un mondo migliore. Siamo stati in giro per la provincia di Agrigento dove abbiamo raccolto 300 scatti e 300 sostenitori ci hanno aiutato con il loro contributo minimo di 3 euro grazie a questa raccolta fondi abbiamo raggiunto Londra e in tre giorni siamo riusciti a fare 300 scatti raccogliendo altri fondi per una prossima partenza e saremo forse ovviamente a Barcellona. Spero di essere stato a presenza chiaro anche perché diciamo che abbiamo ripetuto per 600 volte questo progetto. Spero di essere durato meno di 30 secondi però insomma è abbastanza difficoltoso però noi crediamo in questa bandiera, nel significato che c'ha, nella Farno e quindi spero che anche voi stasera farete parte di questo progetto facendo un contributo minimo di 3 euro facendo fare uno scatto che verrà poi pubblicato sulla pagina Facebook però ci potete dire sicolarmente a tutti sicolarmente ma anche una foto collettiva facciamo 300 tutte le un'unica foto sarebbe una bella idea grazie mille grazie